ahhh, che freddo tra 3, 2, 1 vi perdo ciao ciao aiuto vinca dritto c'è 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 sono molletto mezzo coperto nella lì con la sbaumata si e non vedo più neancchio con questi ottiali maledette com'è? non ricordo se era acqua che mi ero schiantato sull'albero ah oof Oh, 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 oh. ahhh uff ahhh ahhh ebbiamo da scherzare e stacca ahhh 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 Ah